Un nuovo percorso formativo per lo psicologo che faciliti l'accesso dei giovani professionisti al mercato del lavoro e garantisca agli utenti adeguati livelli di qualità del servizio. È quello che propone il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, che ha presentato a Roma, al Palazzo dell'Informazione, un decalogo per un nuovo modello di formazione, realizzato in sinergia con la conferenza dei presidi delle facoltà di psicologia, con la consulta dei direttori di dipartimenti di psicologia e l'Associazione Italiana di Psicologia. Questo documento è frutto quindi del lavoro di un apposito gruppo misto, formato da professionisti del Consiglio Nazionale e dal mondo accademico per condividere alcune linee relative appunto al percorso formativo con l'obiettivo evidentemente di migliorare la qualità del percorso formativo dello psicologo che significa anche una maggiore coerenza tra il percorso formativo e poi il mondo del lavoro. Tra le linee guida che saranno proposte ai Ministeri dell'Istruzione e della Salute ci sono anche la revisione del tirocinio formativo e dell'esame di Stato. Riteniamo che un anno di tempo sia molto importante da utilizzare proprio per consolidare quelle competenze che già all'interno del corso di laurea possono essere state formate. Da questo punto di vista anche una riforma dell'esame di Stato potrebbe essere auspicabile proprio nel tentativo di rendere il mondo della professione e il mondo della formazione più uniti e più vicini tra loro. Grazie.